La quinta dedizione di Transit comincia l'11 ottobre al Sambapolis con il concerto di Nex, il miglior trio sulla faccia della terra secondo lo scrittore britannico esperto di jazz, Geoff Dyer, e prosegue con due pesi massimi, Bill Frizzell il 24 ottobre, chitarrista squisito con il suo nuovo progetto Harmony targato Blue Note, e Ipere Ubu, leggenda del post-punk statunitense planetario, in quella che potrebbe essere la loro tournée di congedo, il disco nuovo si chiama The Long Goodbye, il lungo addio. E poi un po' di cose stravaganti come cantautore britannico Richard Dawson il 27 febbraio, quel mese comincia invece con la sonorizzazione del film di Carl Dryer e Vampyr da parte di Paolo Spaccamonti, Ramon Moro e della violoncellista Julia Kent. Il programma viene concluso sempre sul bilico fra musica e immagini dal duo canadese Jerusalem in My Heart.